Primo rapporto nazionale sull'usura, praticata dalle banche nei confronti delle imprese. Lo studio, promosso da Confapi e Fondazione SDL, fa emergere un dato fondamentale. In Toscana il 99% dei conti correnti e dei mutui analizzati su 900 reclami evidenzia la presenza di usura e anomalie finanziarie, dato che conferma quello nazionale. In Toscana altro dato significativo è che più l'azienda è piccola e da conduzione familiare, più cresce la possibilità che si è soggetta ad usura. Sono imprese che fanno parte del tradizionale tessuto produttivo, artigianale, agricolo e turistico della Toscana. Quando si invita alla crescita, chi è che è protagonista della crescita? Generare altro denaro dal denaro con il gioco finanziario? No, bisogna rilanciare i nostri settori tradizionali. La Regione Toscana si è impegnata con una legge a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell'usura. Se avviene avere la possibilità anche di sostenere chi ci è caduto e dall'altro denunciare all'autorità quelle che sono le eventuali responsabilità di illeciti in questo senso. Esiste una legge, la 108 del 96, che pone il limite sugli interessi. Questo limite però viene regolarmente superato dalle banche, sia per esigenze di bilancio, sia di gestione interna. Il sistema bancario, piuttosto che approfittare delle persone che vanno in difficoltà e che non hanno potere contrattuale, dovrebbe migliorare la propria efficienza e quindi stare sul mercato svolgendo un compito importantissimo, che è quello di sostenere le famiglie e le imprese. Da tutte arriva una triplice richiesta, più educazione finanziaria per le imprese, trasparenza nella condotta da parte degli istituti bancari e un indirizzo strategico da parte della politica.